Bentornati sul canale ragazzi, io sono Fablinker e oggi siamo qua su FIFA 22 con la carriera Allenatore, questo sarà un episodio importantissimo, veramente importante perché, ahimè, dobbiamo vincerle tutte, tutte ed è complicato, è complicato, comunque queste hanno la maglia come la nostra, mannaggia tutto, e con cosa giochiamo? C'è questa, non lo so, speriamo che si capisca qualcosa, vabbè, vedremo, però ragazzi sarà importante vincere tutte per sperare, per sperare, per sperare, per sperare. Allora, allora ragazzi miei, oggi ci vuole un miracolo, parliamoci chiaro, in una squadra come la nostra che prende 28 gol a episodio, ci vorrebbe un miracolo, però io, ci voglio credere, ci voglio credere, dead up, dead up, vai, ah, bruttissima parata qua del portiere che la palla rimane lì ma, non c'è niente da fare, ahimè, per lui avrebbero preso gol, non so nemmeno io come abbia fatto ad arrivarci, John Felix, no, mannaggia, che fortuna, c'è il movimento senza palla, Ruben Neves, bravissimo Paredes, e spaziamo via sta palla, la gioca su John Felix, bravi, ferma tutto con questo intervento rischioso, tell up, giochiamo da lì, Serrano vai, nooo, ah, che, che cosa complicata, oggi veramente complicata, bisogna giocare con molta intelligenza, Amato, Paredes da fuori aria, quando mai una volta che Paredes fa un tiro sia pericoloso, quantomeno, una volta forse capitato, purtroppo non ce l'ha, quella cosa del tiro fuori aria, non c'è niente da fare, calma, mamma mia, ah, la parata, pensavo fosse palo, pensavo fosse palo, invece no, bravo Delap, Serrano, Serrano riparte, vai a lì, perché ti sei fermato? No, non ci credo, c'era una possibilità lì, grandissima, vai Pinto, eh, però, eh, però, e due, e due, come cavolo si fa a marcar questo? Mamma mia, fuori, 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 è dura contro questi, raga, ma è Quevas, Quevas, taglia verso il centro, no, non è passata la palla, non è passata sta palla, è quello? Sergente, tu ho quello, cioè non puoi, eh, vabbè, è sempre così, passa a G, passaggino, passaggino, gol, guarda, uno, due, tre, quattro, cioè è una roba, non si riesce, io, purtroppo, ammetto che non ce la faccio, a fermare quando fanno queste cose qua, non ce la faccio proprio, se lo scarso io, può essere, ma non ce la faccio, poi ci vorrebbe la palla di Cristallo, per capire i movimenti in anticipo, tenta la conclusione, tiro respinto, l'Atlatico difende molto bene, ahimè, è anche un bel attacco, oltretutto, dai, brava lì, ah lì, niente, lo smettiti, sfuma l'azione, oh, è un cento da fare, poi le mani lì, è sempre loro, è sempre loro, pinto, dai, vai, dai, 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 dopo 44 minuti, la partita va in pareggio, bravo Della, buono anche il passaggio, e buono l'inserimento, allora, primo tempo, discreto, siamo in difficoltà, siamo in difficoltà su alcuni ruoli, per dire, ah lì non mi è piaciuto, per dire, Serrano non mi è piaciuto, però sai, c'è questo Simeone, che quando entra contro l'Atletico Madrid, segna sempre, mettiamo Simeone, mettiamo Simeone, secondo me, Simeone può fare il colpo a sorpresa, non so perché contro l'Atletico Madrid, segna sempre, ha sempre quel tocco in più, sembra veramente che ce l'abbia con loro, Simeone, pinto, no, Paredes, no Simeone, non puoi tirare così, tiro inguardabile di Simeone, tiro inguardabile, non esce, quando mai esce, metri il giocatore dell'Atletico, pallone invitante, bravo Christensen, dai, 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 teniamola, teniamola, sergente, bravissimo, Quevas, Quevas, per Dellap, per Simeone, Simeone, ha una prateria, ha una prateria, no, 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 l'ho messa precisa apposta, Calderon, Conce, sa, è mano, no, prende la mira e calcia, tiro respinto, non era mano di Conce, sa, vabbè, poi comunque tanto arriva Paredes che rovina tutto, quindi, anche se non era a mano, l'aveva bene nello stesso, cioè Paredes lì, ho tirato di potenza, l'ha fatto di piatto, Simeone, no, no, Simeone, ha una marcia in più, Simeone contro la Tego Madrid, ha una marcia in più, non so perché, vi giuro, però comunque non si segna, questo è il problema, mamma mia, no, 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 ha creato problemi al portiere, ha sprecato una buona occasione qua per segnare, e queste palle vanno sfruttate meglio, Simeone, vede quei vas, Simeone contro la Tego Madrid, ecco il prossimo match che potrete seguire come sempre insieme a voi, oh, no, no, non ci credo, Cuevas, per Pinto, Amato, Amato, no, vabbè, non ci credo, Sergente, e vabbè, che sfiga, che sfiga, che amorosa, non becchiamo un fallo di mano dentro l'aria neanche a pregare, ci sto a provare a fare questa tattica qua, bene, no, ecco Ruben Neves, Amato, Amato salta, perché non salti amico mio, perché non salti, hanno rotto le gambe, non riesce a saltare, Amato, come se sa, perdere, Amato, Pinto, Simeone, no, vabbè, oh, ne entra, staremo meritando, no, no, docchiamoli la strada, eh, vabbè, Ruben Neves, bravo, Amato, con se sa, ripartenza, con se sa, no, vabbè, rega, no, no, ci stiamo provando con tutte le forze, uuuuuh, 600 secondi da giocare ancora, calma, 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 eee, vabbè, e vabbè, e vabbè, Ristensen, deviazione provvidenziale che abita un gol fa, Simeone, possono ripartire in contropiede, vai DELAP, vai DELAP, faccio sognare, può avvicinarsi alla porta, no, no, oh, Simeone, mano, 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 DELAP, contro O'Black, DELAP, contro O'Black, DELAP, contro O'Black, non ci credo, non ci credo, non ci credo, eh, però ora bisogna tenere, sono altri 5 minuti almeno, eh, non è facile, non è facile, non è facile, oggi abbiamo subito meno, non so perché, incredibilmente, no, Amato, no, Amato, non deve passare neanche l'aria, in quell'area di rigore, appunto, Saul Digues, alla lente, hanno pareggiato, quando sembrava ormai finita, due a due, bella partita, parità assoluta, due minuti di recupero, così indica la lavagna, Ruben Neves, ancora parità, con la Trenico Madrid, che ci crede però, fino alla fine, nessun problema per la difesa, questo gioco è ingiusto, è ingiusto, un'ingiustizia dietro l'altra, in questo gioco, un'ingiustizia dietro l'altra, è incredibile, anche oggi ben dominato, non si porta mai a casa il risultato, non si porta mai, è straziante, è straziante, perché così, ah lì, vuoi stare o non stare, decidi, perché qua, non so, sei un po' confuso, vuoi giocare, puoi andare via, che vuoi fare? Allora, sai che c'è, dai eh, contro il Bilbao, Ash Wolov, dai basta, su, no, contro il Bilbao, si deve vincere, a tutti i costi, si deve assolutamente, portare a casa, il risultato, contro il Bilbao, non c'è storia che tenga, dai, ancora pochi istanti, e poi si comincia, dai dai dai, contro l'Atlantico, ora è difficile, e questo è vero, quindi pareggio, alla fine, possiamo dire, che è praticamente, un punto guadagnato, mettiamola così, sfida che mette di fronte, i due protagonisti, del calcio mondiale, la partita di oggi, si preannuncia, una vera festa, per gli occhi, la cornice, guarda, le strepito, vabbè, però c'è, beccala, sta porta, e se, contro il Barça, potevamo, anche essere, contro il Barça, contro il Madrid, potevamo essere, anche 3 a 2, tranquillamente, se te non sbagliavi, due tre gol, davanti alla porta, clamorosi, Cuevas, vabbè, cross inguardabile, di Cuevas, veramente inguardabile, bravo Serrano, niente, vabbè, e vabbè, più in alto, lì, la porta è più in basso, la porta è più in basso, la porta è più in basso, ecco Serrano, dai, Dela, bravissimo, lì, per Pinto, 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 1 a 0 Barcellona, Pinto segna, quest'anno Pinto ne ha fatti di gol, ne ha fatti parecchi, è il suo ottavo gol, beh, per essere un centrocampista offensivo, ci può stare, ci può stare, sono buoni, il suo lavoro l'ha fatto quest'anno, il vecchio Pinto, poi è giovane, ma le taglie, Calderon, ah lì, eh, se Quevas si muovesse, mannaggia Quevas, mannaggia te, mannaggia, Delap, Paredes, Serrano, no, era buonissima la palla per Delap, solo che non l'ha capito, per cui è il problema, però era buonissimo, aia, può correre lungo la fascia, calma, si è girato, benissimo, si è girato, e butta via sto padrone, bravissimi ragazzi, avete chiuso la grande, ah lì, dell'aria, è arrivata la conferma da parte del diretto interessato, che dunque si ritirerà, la presa, la presa, non so come, ancora Quevas, per Pinto, traversa, vabbè, vabbè, e che devo dire, cioè, una certa, amato, mamma mia, madre santissima, no, no, fuorigioco, e che cavolo, cioè, non lo so, poi, mi stanno assediando l'aria, non so io, Serrano, eh, Serrano, Serrano mio, un pallone complicato, bravi, dai, Pinto, per Serrano, no, la palla era buona stavolta, tutto bravo il difensore, bravo, Mato, Serrano, ah lì, eh, ah lì però poco fisico, raga, questo è un problema, nel calcio, adatto livello, manca, gli manca il fisico, preferiscono, non buttare via il pallone, affidarsi al fraseggio, per andare a caccia, nel gol del pari, bravi, dai, evidente supremazia territoriale, degli ospiti, negli ultimi 15 minuti, con percentuali altissimi, vabbè, Dell'App, anche tu che mi sbagli, si passaggi, Dell'App, anche tu, cosa fa Kristiansen, cos'è quella movenza da pagliaccio, García ci pensa a lui, ci pensa García, con una buona parata, oh fisca abitro, ti prego, tempo scaduto, lo sapevo io, lo sapevo io, ha fatto una magia questo, ma guarda che finta, guarda che finta, precisissimo poi, ora fischi, eh sì, ora sì, ora fischia, vabbè, c'è poco da dire, Simeone, che mi è piaciuto l'ultima volta, con SESAU, andiamo avanti così, anzi, anzi no, Almeida, mi sta sempre più convivendo, in queste sue prestazioni, proviamo così, eh, bravo Mato, con SESAU, Simeone, Simeone, Cueva ha aspettato mezz'ora, per tirare in porta, ha aspettato mezz'ora, così, io ho cliccato, lui ha aspettato, la palla recuperata dagli avversari, interviene bene sul cross, assolutamente positiva, la prestazione dei primi 45, è stato tra i protagonisti, nella prima frazione, questo è, e non solo per il gol, con cui ha dato il pari, la sua squadra, a pochi minuti da riposare, no, Mato, mamma mia, Cuevas, Simeone, per con SESAU, ho ancora lì però, d'accordo, grazie, pinto, ancora pinto, ancora pinto, sempre lui che segna, oggi doppietta, così a buffo, bravo pinto, dai, 2 a 1 per noi, vecchio Iago pinto, non sbaglia, no, no, non ci siamo, non ci siamo, passaggi non ci siamo, però, bravi, Simeone, Simeone, vede con SESAU, eeeh, vabbè, si virebbe terzo gol, per essere più tranquilli, perché non sono per niente tranquilli, eh, no, no, Calderon, e vabbè, questo è lo stesso, mi tacco, al volo, passano lo stesso loro, è una roba, sembrano di fantasmi, fa quasi piangere, per provare a raddrizzare la partita, sceglie l'appoggio, buona triangolazione, bravi, pinto, eh, vabbè, Simeone, non si muove, Simeone, devi muoverti, non puoi aspettare, no, vabbè, io, io basta, io basta, io basta, io basta, ma non è possibile, sti rigori, così regalati a buffo, ma cos'è sto rigore, eh, ti disperi te, ti disperi, Garzia, contro Gonzales, Garzia, Garzia, la presa, non ci credo, non ci credo, eh, ma attenti ora, Simeone, Simeone, ripartenza, sbaglio incredibile, Simeone, e mo? Simeone, 3 a 1, Barcentona, da tristezza più grande, alla felicità più grande, che, che, che partita strana, che partita strana, che partita strana, Giulianino, è bravo così, è bravo così, siamo 3 a 1, e magari non finirà così, è bravo così, Guadagnia metri, attenzione perché è pericoloso, ripartiamo, ripartiamo, Dell'Up da solo, Dell'Up, per Giuliano, Simeone, 4 a 1, tutti a casa, tutti a casa, tutti a casa, che ha poi permesso di infilare il portiere, godo, troppo solo nella circostanza, godo tantissimissimo, che fatica, posso dirlo, tocco per Sar, lancio fuori misura, palla recuperata senza problemi, ancora, Simeone, attenzione ancora per il pinto, 5 a 1, atletico Bilbao, distrutto, sei depresso, dopo aver rigore sbagliato, ma il risultato, 5 a 1, bene così, bene così raga, dalla tristezza, alla felicità, incredibile, una vittoria importante, perché erano davanti a noi, eh, ma svolo, abbiamo vinto 5 a 1, ma cosa vuoi, ma cosa vuoi, cosa, cosa vuoi, cioè, io non lo so, si permette anche di parlare, capito, cioè, ma come ti permetti, ma come ti permetti, allora, Malaga, Barcellona, non guardo la classifica, perché non ce ne deve fregare nulla, 90 dela, Quevas 87, ma la faccia, sta diventando un po' forti, leggermente, noi la classifica, ci deve interessare, a fine anno, ora no, quindi, determinati, tranquilli, sulla partita, tranquilli, incattiviti, sulla partita, in Malaga, sta a 19esimo, quindi si deve vincere, a tutti i costi, lo dico, se non vinciamo, un fallimento, Serrano, Serrano, ha preso un palo, meraviglioso dela, da fermo, quasi, vabbè, fa niente, si parte subito bene, però, questo è l'importante, ah lì, vada solo, perdela, pinto, no, troppo alta, pinto, ma che cavolo vi convini, quella era facile facile, ma sì che era facile, ma stavo a spingerla, non dovevi neanche darci tanta forza, vabbè, Quevas, perdela, ah lì, Serrano, è fallo, ah oh, è belli, ma questo è fallo, cioè, non è che mi ha sbilanciato, non sono uscito a prendere la palla bene, questo è fallo, lo tiro al volo, vabbè, io non ho parole, io non ho veramente parole, si affacciano nella trequattura, può colpire da lì, bravo Amato, ferma l'azione e recupera la sfera, Ali, vada solo, e purtroppo, giochiamo, giochiamo, non perdiamola, bella palla per Serrano, Serrano per Ali, pinto, Serrano ancora lui, caccio d'angolo, caccio d'angolo per il Barcellona, Aredes, per pinto di testa, no la presa, non ci credo, una presa, Guevas, per Ali, che però sta fermo, Christensen da fuori aria, ancora lì, Paredes, oh niente, non ci entra sta palla, Sergente, Sergente, ma tira al volo, ma tira, ma tira, io ho spinto cerchio, ho spinto cerchio per tirare in porta, perché a me non me la tiri, c'è paura, ti fa gol, eh, peccato fa gol in effetti, Serrano, eh vabbè però rega, due pali, ma vai che questa era difficile da segnare, però, amici miei, due pali, va bene la sfortuna, però questa è, ovvio è, è proprio incaronirsi su una cosa, eh, fuori gioco, Christensen, Christensen va da solo, evidente supremazia territoriale degli ospiti negli ultimi 15 minuti, no, adela, ah, ma porca, miseria, ottima chiusura del difensore, Paredes, buona la palla, ah lì, eh, ah lì ti sbagli tutto però quando lo dicevete anche te, ti ci metti, eh, Calderon, Mamma mia, Christensen cosa ha preso anche stavolta, Serrano, per Ali, Delap, Delap da solo, per Quevas, Alino, vabbè non ci credo, come ha fatto sbagliare, da lì non lo so, visto che ci arriva la prima del portiere, devo ancora capacitarmi di questa cosa qui, devo ancora, non dargli mica il rosso, scusate, ah no, perché mo' adesso, ah lì, per Serrano, Serrano voi, spingi Serrano, e vabbè Serrano però c'è veramente, che è questa roba a Quevas, se può sapere, mi sospettisco, l'ultima azione, Quevas, e vabbè, ciao Quevas, ciao Core, vabbè, niente, 0-0, doveva finire, questo primo tempo, 5-0, ma vabbè, discorsi a parte, facciamo qualche, qualche cambio, stavamo dicendo, prima che avessi un imprevisto, allora, allora, con Seesau, Simeone, per il resto, lascerei così com'è, per il resto, ragazzi, dai, su, che stiamo giocando un gran bene, dovremmo essere già, 2-3, 4-0, con tutte le possibilità che abbiamo avuto, invece no, però non mogliamo, dai, ripartiamo e gol, dai, ripartiamo e gol, Simeone, Quevas si muove bene, Quevas, no, non ci credo, giocata da Applausi, bello, calma, Amato, con Seesau, per Dell, no, troppo sul portiere, troppo, troppo, no, 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 Tutino, che ca... vabbè, calma, mamma mia, Christensen, Paredes, Dellap, anzi, Simeone, per Dellap, da solo, Dellap, 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 daje, daje, che finalmente, si sa sbloccati, sempre lui, 25esimo gol, in 31 partite, ormai un simbolo, di questa squadra, un fuoriclasse assoluto, che farebbe comodo, a qualsiasi squadra europea, Amato, perché? Amato, 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 e prendi questa palla su, che non scotta, non è velenosa, credo, con Sesau, ottimo, ripartiamo, sei fresco, sei fresco con Sesau, però, pure quell'altra veloce, bravissimi, Dellap, no, no, non ci credo, Simeone, Pinto, Pinto, no, sto portiere, maledetto, vabbè che il tiro era, era abbastanza, così, però, sto portiere, ha scassato, tutto quello che si può scassare, tuttino, calma, 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 ho detto calma, possibilità per il cross, no, no, che rischio, che rischio, allora, Paredes, sta uscendo un po' dal gioco, mettiamo Almeida, che ci ha dato sempre buone prestazioni, almeno, ultimamente, vai sergente, vai sergente, che, ho sbagliato, ho sbagliato tutto, ho sbagliato, questa è coppa mia, eccessiva, arroganza, bravo amato, pure nostra, pure nostra, quindi, amato ancora più grande di quello che è, Consesau, tiene la palla in campo, vede Almeida, Almeida vede Simeone, sarà uno scontro tutto da seguire, da quello che si è visto nelle precedenti uscite, Dela, no, no, non ci credo, non ci credo, non va, non ci posso credere, non ci posso credere, non ci posso credere, io non ci posso credere, aia, sergente, ritorna, aia, bravo amato di testa, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo, guarda, 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 guarda che gollanzo che si sono fatti questi, bruttissimo, ma tremendamente efficace, abbiamo 14 minuti, per fare il miracolo, pinto, per Simeone, male, male, male questa palla, Simeone è entrato un po', un po' impalpabile, sinceramente, oh, tu ci metti a passare sta palla, Almeida, perché ci hai messo mezz'ora? Ci hai messo veramente mezz'ora, no, vabbè, che culo, Simeone, Della ti prego, Simeone, Della se lo porta via, ma, ma no, ma no, ma no, ma no, ma no, Simeone è mio però, non ci credo, Della ha fatto un'opera d'arte, se l'ha portato via l'uomo, ma vabbè, però dai, no, no, tanto cielo benedetto, che partita rubata, ma qua è tutto per tutto, ma qua è tutto per tutto, eh, vabbè, c'è io non ci credo, può effettuare il cross, vediamo cosa fa ora, la prende bene, lo blocca senza problemi il portiere, fortunato si è ritrovato il collo, per chi, per chi, sconfitta, che ci condanna, ci condanna, perché ormai è finita, non c'è, non c'è spazio per, per un miracolo, purtroppo, non siamo in grado quest'anno, non siamo in grado, abbiamo fatto tanto, ma non siamo ancora, così tanto concreti, sotto porta, per poter rambire, a posizione di rilievo, oh ma basta, ma basta lì, ma basta su, con questa storia, ogni volta, con Levante, che ora sta quinto, ma come sta quinto, noi siamo a 44, il quarto posto è a 10 punti, un punto l'abbiamo recuperato, non so come, stiamo a 5 punti, dal sesto posto, siamo lì, però ormai, ci mancano, una partita, due, tre, quattro, cinque, sei, sei partite, ormai è andata raga, su, l'unica speranza, che possiamo avere, l'Europa League, ma neanche, forse la Conference, poi l'Ellap sta male oggi, ad Elap, ti pare la giornata ideale, bello, però io oggi, il moquette, lo vedo in forma, io oggi metto moquette, ragazzi, faccio la pazzia, so che la pazzia, ma io la faccio, voglio provare una cosa, veramente pazza, mettere moquette, titolare, io ci credo, io ci credo, in moquette, voi, mandatemi il vostro, spirito positivo, moquette, ti prego, bravi, ah lì, ah lì, ah lì, ah lì, vediamo, cat, ah male, cioè buono, ma, da lì era impossibile, fare gol, ci ho provato, perché non avevo altre, però, bravo, bello, pure nostra, pure nostra, moquette, vede lì, è passaggio un po' inguardabile, con tutto il bene che ho, per moquette, ma il passaggio è veramente, qualcosa di inguardabile, certo che fare meno di deal up, non è facile, moquette, ah lì, no, 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 bravi, ah lì, per Moschera, ah, palla ancora lì, però, Serrano, ah lì, ci prova, però troppo sul portiere, troppo sul portiere, no, bello, bello, bravi, eh però, figlio mio, dai, ah lì, vede Serrano partire, Serrano, Serrano, recupera palla, evita guai, Moschera, vediamo cosa inventa ora, ah lì ci prova, è bruttissimo, eh segnare oggi non sarà facile, ci manca deal up, è più complicato, ah lì, ah lì, ah lì, ah lì, ah lì mio, no, bello, no, bello, calma, eh troppo solo, bravo, bello però, intelligenza, di astuzia, Moschera, allontana il pericolo, subito via reale, stagione dinamica, c'è stato un gol, prima rete della partita per l'Espagnole, Moschera, Serrano, per Moquette, che fa quel che può, oh, oh, no, Moquette, era buona, era buona, era buona, caccio d'angolo, Quevas, per Calderon, però non ci arriva, Serrano, Christensen, eh vabbè però, rigore? Mi piace, Moquette ha una faccia comunque da, da, da assassino proprio, da cattivo, batte a lì, al centro di tanti discorsi di mercato, possono sbloccarla qui, a lì parte, ma lì perché non ci vai? Ma che è? Perché non ci va? Hai ti visto? Stato fermo, c'era la ribattuta, c'era la ribattuta, facile facile, non c'è andato, che è? Un segnale? Quevas, eh vabbè, c'è andava a dire a gol, Paredes, tenta il cross, Moquette, ci prova, ancora Paredes, no, Serrano era bellissimo, era bellissimo, sto portiere, maledetto, vai a lì, niente, altro calcio d'angolo, oggi è una gara di calci d'angolo, Paredes, per a lì, sergente, niente da fare, oh ma non si riesce a segnare, bravo, bello, oh, calma, Paredes, Serrano, niente, l'ho provato, eh, a passare, comunque Levante, che è scarso, so come faccia ad essere quinto, cioè in malaga era più forte, ma sono queste le cose che mi stanno sul cazzo, cioè, tu vedi squadre ultime che fanno la partita della vita, squadre che sono dalle prime che fanno veramente ribrezzo, io non capisco, la logica, è sempre così la maggior parte delle volte, è una roba fuori da ogni logica, vabbè, non giù non si capirà, forse, il perché? no, 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 oh, oh, niente, sempre a tempo scaduto, eh, sempre a tempo scaduto sta gente fa gol, poi guarda, Christensen si addormenta, pure Garzia, e qua poteva far di più sinceramente, però, eh, niente, ragazzi, non ce la si fa, non ce la si fa, delap, delap, eh, pinto, con sesao, l'unica, l'unica, non si può fare altrimenti ragazzi, tocca far così, per il bene della squadra, della classifica, dai un po', dai un po', mamma mia, delap, quanto mi è rimancato, quevas, ancora delap, niente, non entra, eh, non entra, non entra, qui, quevas, per delap, niente, non entra, ripeto, ancora quevas, non so perché, altro calcio d'angolo, niente, mannaggia, mannaggia, con sesao, molto più veloce, bravo, di tacco addirittura, che classe, Paredes, ce l'ha fatta, ce l'ha fatta Paredes, non so cosa stia succedendo, ma Paredes ha fatto un gol fantastico, incredibile, con un bel tiro, una cosa che non era mai successa, in un anno intero, mo' ora, ti metti a fare bei tiri, non potevi farlo prima, non ce n'aveva più bisogno, tanto ormai, mi sa che la Champions è andata, quindi, mo' ora ti metti a fare bei tiri, vabbè, meglio tardi che mai, Pinto, verrà lì, no, 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 lì, perché si passaggia, Luis Suarez, Melero, cos'è Campagna, a metri, si vabbè, e c'è il gol, si riporta l'invantaggio dunque, io ormai ho sprecato le parole, non finita proprio, finita, sprecate e finite, per questo gioco, ma guarda che ne ha passato lo stesso, l'avevo presa io praticamente, ragazzi è finita, sono completamente demoralizzato, sarà per il prossimo anno, mi tocca di così, mi tocca di così, Della segna, ma ormai, ma prendi sta palla, Della, che cavolo esulti, con tutto il bene che ho per te, però, mi pare il momento di esultare, bravo sergente, Paredes, Cuevas, Delap, vede Pinto, ma mannaggia, ottima parata, ottima parata, calma, bello, bello, bravo Garcia, che esce molto bene stavolta, ah lì, per Consesau, ci provano i tifosi a suonare la carica, dopo essere stata brutta, perché mi hai riscattato, poi ti sei fermato, perché, aspetta che te la passo, almeno prova a correre ancora un po', e l'ha scalato benissimo, e invece no, fermiamoci, non sai mai che faccio gol, beh, guarda, campagna, è in buona posizione, lo vede, interviene sul pallone, lo fa suo, ah lì, Delap, c'è spazio per la ripartenza, ma lì dai, su, recuperando il pallone, mamma mia, che pesantezza, che sei oggi, Delap, Delap, 3-3, io non ci credo, questa l'abbiamo buttata, come tante, quest'anno tante partite, veramente, l'abbiamo buttato, che dovevamo vincere tranquillamente, non so perché ripieva da scatti, comunque, non ne ho idea, ma, da scatti tutto, vabbè, quest'anno, veramente, l'abbiamo buttato, tante di quelle partite, più caldo per la fase difensiva, Bilbao, Samba Messa, seconda rete della partita, per l'Atletic Bilbao, punteggio che ora, se sistemiamo quella, cioè, siamo veramente imbattibili, eh, vabbè, raga, dai, ho capito, dopo questa, io me ne vado, basta, no, no, non voglio sapere niente, veramente, dai, che ogni tiro sia un gol, ormai mi sono scorciato, eh, con tutto il bene, ma, no, no, non è il modo, migliore, per dimostrare il, il gioco, che sia, non stati fanno una squadra in particolare, ecco, ci penserò, si meno, ci penserò, eh, mochetta, è fatto schifo, vabbè, comunque, allora, ufficialmente, adesso, a parte, a parte gli scherzi, a parte tutto, parliamo di cose serie, che forse è meglio, noi siamo decimi, a 44, e Siviglia sta a 49, e Granada sta a 10 punti, l'unica è riprendere Siviglia, però, ci mancano 10 punti, per dire, facciamo un calcolo, 3, 6, 9, 12, mancano 15 punti, il prossimo episodio potrebbe essere quello finale, lì si deciderà tutto, però, io adesso, ho tutto il bene, voglio dire una cosa, chi, chi vince la Coppa di Spagna, Coppa di Spagna, dove va? Cerchiamo su Google, il vincitore, ottene la qualificazione, diretta alla UEFA, Europa League, e può partecipare, inoltre, alla Supercoppa di Spagna, eh, quindi, di base, se noi vinciamo questa Coppa, potremmo già, chiudere l'episodio, perché 10 punti di distacco dal quarto posto, io penso che ormai sia bella che è finita, poi magari, i più ottimisti mi diranno, no, ma dai, non è finita, io penso, purtroppo di sì, quindi l'unica, l'unica, l'unica cosa, in cui possiamo sperare, è questa Coppa, sperando di farcela, vabbè, ragazzi, io vi ringrazio, e, vi, vi ricordo il link, in descrizione, per supportare il canale, e ci becchiamo, al prossimo video, ciao ragazzi, alla prossima,